guardate a sinistra i graffiti quindi oggi i ragazzini passavano il tempo qua e si scalfivano il loro radiatore preferito e quant'altro questa è una mostra molto grande mi so spermo troppo sul punto uno perché mi svenite due perché non abbiamo tutto però una cosa valvista i romani non pagavano i romani non pagavano i ricchi, i bologni, i bologni, i bologni, le zone venivano e si sedevano dovevano essere un po' veloci però i senatori e i politici avevano i loro sedili riservati quindi quando entravano c'era il loro nome scritto bello a bello sui blocchi e quando il poverino passerà miglior vita si scalfiva, si capicellava per scrivere il prossimo molto semplice che è successo? che è successo? un momento che è successo? che è successo? che è successo? Grazie a tutti La loro cappellina se la sono dovuta costruire ed eccola qui Questo è un digitale da un dipinto dell'Ottocento di un visitatore Questa cappella è stata poi smontata, rimontata al piano terra, ancora c'è ma non è aperta E installano gli altari per le famose stazioni della croce che tuttora il Papa fa da fuori Mentre al tempo si facciamo dentro, perché? Perché tutta l'area viene dedicata ai martiri Quindi viene cristianizzata Dunque il colonnato non c'è più Gli uncini che agganciavano il velario non c'è più Noi stiamo camminando all'interno del passaggio dell'anello esterno C'erano statue in ogni arco, rotte, distrutte, il Vaticano e compagno I sedili, quindi le gradinate dove si sedevano non ci sono più Quindi cosa vedrete? Vedrete il muro, questo muro che girava tutto intorno un po' come un imbuto Che sosteneva i blocchi dove si sedevano E in alcune zone è rotto, in altre intero e così via Bene, ora entriamo A qualche minuto per le foto e poi scenderemo giù E in alcune zone è rotto, in alcune zone è rotto, in alcune zone è rotto Grazie a tutti Sì, per vedere tutti i dettagli, tutti i dettagli, tutti i dettagli, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Sì, è bello, 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 Grazie a tutti Grazie 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 Grazie